Si è appena concluso l'incontro formativo svolto a Soveria Mannelli e organizzato dal nostro istituto di formazione Terina nell'ambito del PSR della Regione Calabria. L'evento formativo ha visto la partecipazione importante di diverse categorie professionali interessate agli argomenti che abbiamo trattato nel corso della mattinata ed è stato un incontro molto proficuo per tutta la comunità del Reventino. L'incontro ha visto gli interventi di aziende di tutta Italia, provenienti dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dalla Sicilia e dalla stessa Calabria. Questo incontro formativo fa parte di un percorso più ampio di formazione professionale che prevede anche la partecipazione a corsi professionali della durata di 40 ore. Questi corsi professionali che abbiamo organizzato danno l'opportunità ai professionisti di partecipare gratuitamente e di ottenere crediti formativi per l'aggiornamento professionale continuo. Quindi sono delle importanti agevolazioni che siamo riusciti a dare a diverse categorie del mondo professionale.